Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo fantastico video di un mondo piccolo piccolo. Io sono Lisa, questo è il mio canale e oggi vi mostrerò come creare dei libri in miniatura. Ci sono due versioni diverse per questo progetto. La prima è realizzata totalmente in Fimo con Fimo Soft per quanto riguarda la copertina e Fimo Professional White per quanto riguarda la parte interna. Il secondo libro invece è stato realizzato proprio come un vero libro. Ho invecchiato la carta bagnandola nel tè, dopodiché l'ho fatta asciugare e ci ho stampato sopra l'immagine che desideravo creare. Dopodiché ho ritagliato tutto, ho rilegato con ago e filo e poi ho creato il buscio esterno con il Fimo Later. Il Fimo Later è quello che limita il cuoio. Le decorazioni sulle copertine dei libri sono state realizzate con la tecnica dell'intaglio e del riempimento con del semplicissimo colore acrilico dorato. Vi lascio al video e vi aspetto dopo perché devo farvi vedere una cosa molto carina. iscriviti al nostro canale. 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 iscriviti al nostro canale.